gt5 è 6 gratis ma non puoi farlo pagare vabbè ti daranno tipo conoscendoli metteranno gli sconti su i gt a dollar a chi? a chi? a chi? a chi? a chi? oh a chi cosa? a chi? a chi oh cosa? ma ce l'hai con me? ma ce l'hai con me? o a chi? ma ce l'hai con me? o a chi? o a chi? o a chi? o a chi? chi è che lo fa il papà? chi è? cos'è che è stato a dire? vai lì, vai lì bravo ora sono io a chi? si io pure a te ci vuole due secondi questa volta e no sai che ce l'ho sai che ce l'ho aspetta ma anche il botolo stavano insieme perché ci stanno stando sti Alberto, oh 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 oh! Metti pronto, spastico! Devo incassarmi a tuon stasera. Sto gioco gli fa male per questa. Mh che è Dead Space quando muove Isaac. ahahah no no ahahah 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 che significa brutale è un nome troppo bello che ti dice stigzi ai emocionati stigzi it's the survival of Oh it's the survival of it's the survival of the fittest in Dis dust Come si scrive, non ho capito? Non sai leggere Non sai leggere, come fai a non sapere lo stile? Eh, sento la scimica, fa wuah Sembra Si legge come lo dice Si scrive come lo dice Ma lo dice Ma lo dice Ma lo dice E' finito? E' finito? Eheheheh 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 Non lo vedo più Vai, vai Tira Non posso Ah Cosa? KILLER STUN E' a pa- E' freddy Che cazzo? E' freddy E' freddy E' freddy E' freddy E' freddy E' freddy Coppa Io non vengo eh Coppa sta pronto eh? Appena, appena, appena le escusa Guarda quanta merda sta a tirà Eheheheh Non la tena Non la può annullarla? E cazzo? E' freddy Che di sai, tiglio Io mai ci ho giocato con il clown Non so che fare Questa sta 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 Questa Questa sta Questa Questa E' tipo Ma che m'ammazza? Ma ha grabato mentre ero fuori dal locker Mentre ero fuori Mentre ero fuori Lo sai che è invisibile? Lo sai che sto fluttuando? Non vedo niente? Non vedo niente Non vedo niente Cazzo Se avessi Non vedo letteralmente niente Pinto momento Soprattutto se le tue mani sono nere Ma dove sta il cancello? Ragazzi non lo trovo Dretto Vedete Coppa Guarda sulla montagna Vai avanti a tezza Eh Non vedo Ah 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 Niente Ah 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 Grazie.